Stefano Fiocchi, presidente di Fiocchi Munizioni, leader in Italia e nel mondo, protagonista dello sviluppo industriale di Lecco, registra un fatturato di oltre 200 milioni di euro con 600 dipendenti. Stefano Fiocchi, nonostante la crisi, il suo gruppo registra un aumento del fatturato pare al 20% rispetto all'anno scorso e comunque da 4 anni è in crescita costante. Come si diventa i numeri uno? Con tanta passione, tanta cultura nel settore, sicuramente un brand conosciuto a livello mondiale e un mercato su cui noi abbiamo puntato che è il mercato americano, che negli ultimi anni ha avuto dei livelli di crescita molto elevati. La Fiocchi Munizioni è stata fondata nel 1876 e quest'anno compie il suo 140esimo compleanno. Ci vuole raccontare la storia di questa grande sfida imprenditoriale tutta italiana? Sì, la Fiocchi Munizioni appunto come ha detto nel 1876 fu fondata da Giulio Fiocchi che rilevò con un prestito di 20 mila lire dell'epoca questa fabbrica quasi fallita che faceva fucili e cartocci come si chiamavano a suo tempo. Lui capì subito l'importanza del mercato delle munizioni, dismise la produzione di fucili e iniziò a industrializzare e implementare la munizione di cartucce. Fino ai nostri giorni dove io rappresento la quarta generazione in famiglia e già la quinta ho iniziato a lavorare all'interno. Ecco, nonostante il periodo recessivo di questi ultimi anni il vostro settore è andato in controtendenza e la richiesta proveniente dall'estero è raddoppiata. Quanto vale il vostro export? Tantissimo, nel senso che la Fiocchi ormai è arrivata all'80-85% di esportazione, il mercato principale sono appunto gli Stati Uniti, il mercato civile degli Stati Uniti che è il primo mercato al mondo, poi viene l'Europa, diciamo nei vari paesi europei comunque l'Europa e infine diciamo gli Emirati Arabi, il mercato paesi arabi e più esportazione un po' dove si riesce perché la legislazione è sempre molto stringente in questo senso. Ma il mercato delle munizioni è più civile o militare? Per quanto riguarda la Fiocchi è molto più civile, nel senso che siamo nell'ordine del 70-80% civile e il resto è quello che noi si chiama mercato della difesa dove riforniamo le forze armate, le forze polizia italiane e soprattutto europee, oltre che Taiwan e altri paesi. Mi tolgo una curiosità, ma chi sono i vostri clienti? I nostri clienti sono tutti i nostri clienti, noi appunto produciamo qualsiasi tipo di munizione per arma portatile che vanno dal livello delle cartucce industriali usate nell'edilizia alle cartucce di altissima precisione o le cartucce per le Olimpiadi, quindi in questo settore noi copriamo tutta la gamma del munizionamento e di conseguenza andiamo a bracciare qualsiasi tipo di clientela a cui noi siamo disposti e capaci di rispondere alle esigenze. Quali sono i criteri di produzione della Fiocchi munizioni che vi hanno resi dei numeri uno? Sì, la Fiocchi è molto, appunto, mi ha detto bene, molto fabbrica, molto fabbrica nel senso che da noi entrano i coils di ottone o di ferro ed esce la munizione finita, quindi è una produzione molto verticale, noi produciamo tutto, quindi la palla, il bosso, i componenti, l'innesco che è il motore diciamo della munizione e la tecnologia è fatta da noi e quindi diciamo abbiamo oltre che il vantaggio di avere macchine nostre ne abbiamo anche il controllo, di conseguenza la manutenzione, la semplice riparazione vengono fatte tutte da noi. Quali sono le caratteristiche di una cartuccia Fiocchi? Che cosa hanno di speciale, bossolo e proiettile che li rendono più precisi degli altri? La precisione sono tutti precisi, devono essere precisi, ma sicuramente il brand Fiocchi che è conosciuto in tutto il mondo è conosciuto come simbolo di qualità, quindi le munizioni vengono controllate in continuo con controlli statistici, che possono essere visivi, automatici o dimensionali, ma soprattutto è la cultura e la tradizione della qualità che si porta avanti che rende il prodotto Fiocchi tra i migliori del mondo. Quanti sono i passaggi, i controlli che subisce una munizione? Centinaia, centinaia. Molti non credono, ma quando uno vede il processo produttivo di una munizione rimane sbalordito dalla quantità di passaggi che subisce. Ecco, si dice che il piombo è un metallo pesante che inquina. Esistono dei metalli che potrebbero sostituire il piombo? Ma allora mi viene da fare una battuta, nel senso sì, teoricamente l'oro potrebbe sostituire perché ha delle caratteristiche di duttilità tali che come il piombo sarebbe un ottimo materiale balistico. Il problema sono i costi, quindi in realtà il piombo rimane un materiale abbastanza insostituibile nel mondo delle munizioni e si sono fatti dei passi avanti da un punto di vista di minore impatto ambientale, soprattutto sulla parte del tiratore con i minor vapore di piombo, minor emissioni di metalli pesanti, soprattutto sulla parte di combustione. Ma il proiettile di 007 in missione Goldfinger l'avete fatto voi? Che era tutto d'oro. No, me lo tengo quello. Quanto investite in ricerca e sviluppo? Molto, molto. Diciamo che da noi ricerca e sviluppo è continua, nel senso che poi investe non solo il prodotto in sé per sé, ma i macchinari, la tecnologia, la diminuzione dei costi di processo, quindi è un continuo miglioramento che anche questo è una questione culturale, nel senso che viene da tutti gli ambienti della fabbrica, quindi dal basso, dall'alto ed è un processo continuo, non ci fermiamo mai. Ecco, Presidente Fiocchi, negli ultimi anni voi avete investito molto nella modernizzazione della vostra attività produttiva. Sì, è corretto, nel senso che abbiamo aumentato proprio la capacità produttiva degli impianti, rispondendo a questo incremento della domanda del mercato americano, quindi abbiamo investito sul mercato sostanzialmente, avendo la capacità di produrci i macchinari, siamo riusciti a rispondere anche in tempi molto brevi. E quanti titoli hanno vinto le munizioni Fiocchi nelle competizioni sportive? Guardi, non me lo ricordo perché sono tantissimi, nel senso che abbiamo vinto tutto, da tantissimi anni siamo tra i leader mondiali nella produzione di munizioni da competizione, quindi nell'ambito del tiro a segno, ma soprattutto del tiro a volo, dove siamo i best in class, cioè in questo caso il settore armiero italiano è veramente il punto di riferimento a livello mondiale, sia nella produzione di armi che di munizioni e Fiocchi sicuramente è tra le migliori. E nelle ultime Olimpiadi? Nelle ultime Olimpiadi abbiamo avuto la campionessa olimpica, la Jessica Rossi, che oltre aver vinto loro, ha fatto il record del mondo sul punteggio. Stefano Fiocchi, ma quando si vince tutto e si diventa dei numeri uno, come si trovano gli stimoli per non stare fermi sugli allori? Direi intanto non pensare di essere i numeri uno, invece pensare sempre che c'è qualcuno che magari è migliore di te. E poi c'è questa grandissima passione, se lei viene in Fiocchi vede questa grandissima passione a tutti i livelli che ci porta avanti e soprattutto ci fa continuamente cercare di migliorare. Quindi come ho firmato il calendario di quest'anno, 140 anni sono un grande traguardo, ma mai un arrivo. Grazie.